Angelo Foletto, lei è uno dei più importanti critici musicali italiani e si occupa principalmente di opera. L'opera italiana non ha niente da invidiare a quella straniere, anzi è quasi fondante. I nostri compositori sono celebri ovunque. Com'è possibile allora che i teatri operistici siano in crisi? Sono in crisi perché l'opera, il bello dell'opera è quello di essere un genere vecchio per certi versi, nato in situazioni che oggi sono non facilmente sostenibili dal punto di vista economico. La verità è che l'opera è una macchina complicatissima, una macchina complicatissima, molto cara. La gente non si rende conto che quando si apre un separio, dietro a quell'apertura di separio ci sono perlomeno 200 persone e queste 200 persone vanno pagate. In alcuni casi perché quelle 200 persone ci siano lì quella sera, lavorano tutto l'anno per essere lì quella sera. Quindi è sicuramente uno dei generi spettacolari più costosi che esistono. E soprattutto poi dopo non hanno la stessa possibilità del cinema o di altre manifestazioni artistiche di avere un rientro con gli incassi. Quindi c'è proprio un rapporto molto diverso. Del resto i bilanci dei teatri sono abbastanza evidenti. Il 70% dei bilanci dei teatri è legato alle spese fisse. Spese fisse significa orchestra, coro, laboratori di palcoscenico e via dicendo. E quindi è una quadratura del cerchio dal punto di vista economico molto difficile da quadrare e certamente in Italia dove i teatri sono tanti questo è un problema grosso perché è molto più sentito che non altrove. Lei prima ha detto che siamo abituati al bello. È possibile che stiamo sottovalutando il teatro operistico e in particolare la figura di Giuseppe Verdi visto che siamo a Parma, nel panorama culturale italiano proprio perché siamo abituati? No, non sono affatto convinto. Uno perché Giuseppe Verdi è comunque l'autore più rappresentato al mondo. Io ho seguito, ho fatto una piccola ricerca personale ultimamente in tutti i teatri del mondo ogni sera e mezzo viene eseguita traviata, tanto per dirne una diciamo. Quindi è veramente molto ma molto più conosciuto di quanto si possa immaginare. Del resto io credo che Verdi sia una cosa sulla quale ci sia un personaggio del quale appunto non possiamo fare a meno, ma allo stesso tempo la storia dell'opera fortunatamente non è soltanto Giuseppe Verdi. La storia dell'opera è molto ma molto più ampia. Io credo che il compito dei teatri di oggi sia quello di fornire anche al pubblico la possibilità di sapere che cos'altro è avvenuto negli altri mondi anche perché la centralità e la forza di un artista esiste nel confronto e quindi le programmazioni di oggi devono tenere conto anche di tutti questi altri elementi. Senza tenere, senza dimenticare il fatto che oggi i teatri, il prodotto dei teatri spesso esce attraverso la registrazione, attraverso gli streaming, attraverso le dirette televisive attraverso le dirette televisive al cinema eccetera eccetera e quindi è anche giusto che possa interessare proprio perché è un prodotto che viene da un paese di cui si dà per scontato che c'è un prodotto di qualità possa interessare anche una platea molto più internazionale. A proposito di questo, l'opera spesso è vista come un'arte elitistica lontana dagli strati più bassi della popolazione forse anche per una mancanza di informazione a riguardo è così? Lo è effettivamente? No, non lo è per niente. L'opera di per sé è uno spettacolo popolare è nato come spettacolo popolare, in Italia a metà dell'Ottocento in alcune regioni come l'Emilia, come le Marche erano aperti più di cento teatri regolarmente cittadine piccole ma molto più piccole di Parma avevano tre o quattro teatri che potrebbero non è vero, nasce come è proprio quello. Diciamo che oggi l'acquisto di quel tipo di prodotto oggi certo il biglietto d'ingresso è un biglietto molto caro e quindi questo crea una selezione questo non c'è dubbio, ma d'altra parte non dimentichiamo che il ruolo dell'opera dal punto di vista della popolarità è stato poi preso dal cinema mi sarebbe che l'opera continuasse ad avere i prezzi del cinema allora probabilmente la concorrenza sarebbe leale, così è dal punto di vista finanziario leale e quindi la sensazione è un po' quella che ci sia elitaria e poi non dimentichiamo che comunque un teatro, un teatro grande come un teatro alla scala più di 1900 persone non può accogliere e quindi anche a fine stagione i numeri sono infinitamente minori di un qualsiasi altro tipo di spettacolo Una domanda secca, l'opera italiana è apprezzata di più in Italia o all'estero? No, non si può rispondere seccamente, io credo che sia apprezzata dappertutto con la differenza che per noi è una tradizione diciamo per noi adesso è diventata una tradizione di secondo grado un tempo era una tradizione diciamo familiare oggi è una tradizione di secondo grado ci sono molti appassionati di opera diciamo che scoprono un'opera tardi non perché la conoscevano in famiglia mentre per l'estero è diverso l'opera italiana è un prodotto italiano chi non ha avuto l'opera italiana va all'opera italiana esattamente come può andare agli uffizi o può andare a Venezia quando viene in Italia e quindi c'è un rapporto diverso e poi non ultimo il mondo degli appassionati di opera è un mondo un po' a parte e quindi per certi versi la passione è esattamente uguale sia in Italia che all'estero l'ultima domanda visto che... no questa è l'ultima il problema è la domanda secca l'ultima domanda siccome prima avevamo un'imprenditrice appunto nel confronto ed è stato parlato del ruolo che un'industria, un'impresa può avere nel favorire la cultura la domanda questa volta è all'inverso la cultura, l'opera può contribuire a una ripresa economica? se sì, quanto? visto che comunque viviamo in un periodo di crisi ma l'opera è un'impresa economica l'opera è un'impresa economica perché l'opera appunto esattamente come non è soltanto lo spettacolo e dietro lo spettacolo ci sono quelle persone dietro a quelle persone c'è un'industria che è un'industria che riguarda la produzione delle scenografie che riguarda gli apparati tecnologici quindi in realtà il prodotto operistico è il prodotto finale di una filiera che effettivamente crea lavoro l'occupazione, le persone occupate in maniera diversa e dietro una rappresentazione operistica sono moltissime pensiamo ai maestri di canto pensiamo ai conservatori che formano gli strumentisti è già di per sé una grossa industria è che come si diceva all'inizio oramai il tipo di prodotto ha dei costi che non sono normalmente sostenibili che non sono dei costi che possono essere diciamo imprenditorialmente giustificati vanno giustificati con un qualcos'altro e lì entra quel famoso meccanismo quanto vale la cultura? che non può essere monetizzato è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa